Esami in lingua sarda oggi all'Università di Cagliari, una novità assoluta, le ha seguiti per noi Rossella Romano. Il documento scritto in lingua sarda. Un bel 30 per questo esame, come mai hai deciso di studiare sarda? Perché è una lingua che ho sempre sentito parlare a casa e ritengo sia giusto che si studi anche a livello universitario. Elisa oggi ha sostenuto il primo esame in limba all'Università di Cagliari insieme ad una decina di altri colleghi. Per tutti si è trattato della prima sessione di esame del corso istituito per la prima volta dalla Facoltà di Studi Mianistici per offrire agli studenti appassionati della loro lingua la possibilità di studiarne la storia, la grammatica e la sintassi fino a raggiungere un buon livello di conversazione. Io lascio la libertà agli studenti di parlare la variante che loro maggiormente praticano nella quale si sentano più a loro agio, quindi quella di casa loro, del loro paese o della loro famiglia. E perché studiare il sardo adesso? È una domanda semplice e difficile allo stesso tempo. Perché è la lingua nostra? Perché porta una cultura? Perché è l'identità di ciò che siamo? Certo non è l'inglese, non è il francese, non è neanche l'italiano, ma perché è una lingua che contiene in sé un tesoro e una visione del mondo che se no viene persa. Grazie a tutti.